Cosa farete? Si è stato ribadito l'accordo del 18 di gennaio sul percorso delle riforme. Noi siamo convinti, come allora, che le riforme vadano fatte rispettando anche i tempi. Entro il 25 di maggio ci siamo impegnati a far uscire dal Senato la prima lettura delle riforme istituzionali. Io adesso sto andando al Senato a chiedere che anche la riforma elettorale venga non abbinata, ma venga esaminata, non dico parallelamente, ma che si incominci a esaminare anche la legge elettorale, ma la prima scadenza verrà rispettata.